ben ritrovati di nuovo su review in you vado a recensire al volo questo prodotto davvero interessante di cosa si tratta di un porta uova l'ho acquistato su amazon ad un prezzo veramente irrisorio se non erro 2 euro arriva con un po di ritardo in circa due tre settimane perché arriva direttamente dalla cina ma a differenza di altri prodotti che poi sono i medesimi porta uova che pagate magari 7 8 9 euro solo perché magari vi arrivano con prime e non cambiano assolutamente niente ecco questo lo pagate una stupidaggine e fa al caso mio ma penso anche al caso vostro perché è un prodotto davvero valido innanzitutto come vedete sono già andato a posizionare l'uovo all'interno ma lo vado subito a rimuovere per farvi vedere il prodotto è plastica dura spessa sono presenti dei dei pezzi di plastica allungati sia sopra sia sotto per far appunto per fare in modo che l'uovo non si rompa e c'è una chiusura tramite questo perno le uova all'interno possono essere quindi messe in totale sicurezza portate ad esempio se andate in montagna se andate a fare un viaggio e si possono mettere ovviamente due uova vi lascio il link in descrizione del prodotto se lo volete anche voi acquistare sono disponibili sia di colore arancione sia di color blu quelle blu mi sembra che costano di meno vado comunque a mettere le uova all'interno per farvi vedere 1 e 12 vado a chiudere schiaccio come vedete le uova anche se si muovono non ballano e stanno perfettamente vado a riaprire per farvi vedere ecco qua nuovo intatto e potete farvi la vostra frittatina alla prossima review se avete domande non esitate a pormele